Ciao a tutti! è una condizione che va su di cacchietta e buco e poi sono fatti di temenore dall'inizio non è... tanti campionieri questa... io... 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 giusto all'interno poi... spinata poi l'interno... in line all'interno con il suo passo... secondo... passione via volato fino a dai primi giri... e manziano... torato... c'è da niente il suo gatto... ma no... ancora... 15 giri... e... molto difficile... così affollati... l'apprenanza in line... ha portato il caso... e... adesso ha preso un po' di vantaggio... e... si vanno... si vanno... si vanno lasciati tutti... 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 e... si vanno... adesso è... Carlo Tagliavue... per la... da... scorta... e adesso è... l'interno... che va... recuperando tantissimo... per il passione... davanti... poi... 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 con il totino... poi... e... è... una... che... romano... in piedi... con... che segna già meno 8... siamo a metà gara... poi... 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 con... con il passato di privato, con la prossima, che non sono ancora migliorata, quando... Siamo approfittamente, sull'alto, la metafia, la fattigiatura, il passato è una cattura, la... non sta, tanto si guardano e si cambia. Tant'è un'autore di sempre, una manizione squadra, tutti, si prendono un'autore di sempre, cambiano sempre, rimane insieme, il vantaggio del finea il suo vantaggio del finea per solo se lo suimi il suo vantaggio del finea con il suo i polisporti va per lutto è una questione qua questo è per il scuoto l'ultimo chilometro adesso troviamo nel ultimo chilometro una un attitativo della vantaggio in all'interno rimane da paranti vantaggio del finea e Nicola Pogli viene finito la porta 10.000 la porta il finito la porta il finito adesso si guardano la nuova la nuova la volante in linea si chiama l'ultimo e un attitato dai guarda anche la controllo di quello in passaggio siamo agli su ultimi torre giri con partidatori spinea polisporti lo bellosto volante in linea ok il 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 inizio il il è un migliorato la participativa di penusco che ha superato la l'anima derudiamo non cambia non cambia la participativa penusco mi parola del seguito del paner canale no più quindi un minuto se il ultimo campione il l indipotente non cambia bene l'anima e il l è il ca il il c il Grazie! Grazie!